Noi chiediamo al Governo di cambiare questo Paese, di ripartire dal lavoro. La grande tragedia che abbiamo attraversato sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista lavorativo ha bisogno di risposte concrete. Quindi chiediamo al Governo di cambiare e di fare scelte politiche che cambino questo Paese, ripartendo dal lavoro, dalla dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Con il Governo noi ancora, con il Presidente del Consiglio, non abbiamo avuto possibilità di confrontarci. Il Ministro Patuanelli che non incontriamo sulle crisi aziendali da parecchio tempo, tant'è che abbiamo scritto a chi l'ha visto, ci ha convocato per chiederci i progetti e le idee nostre su Recovery Fund. Io spero che il Governo abbia un'idea, spero che il Governo abbia delle proposte sulle quali far sviluppare questo Paese. Siamo sempre ottimisti, quindi siamo qui in piazza per chiedere questa convocazione e avviare un confronto. Per rispondere al sciopero generale? Noi continuiamo una mobilitazione, lo sciopero generale è sempre uno strumento, non è un obiettivo. Noi prima dello sciopero generale faremo una mobilitazione sui posti di lavoro, sulle piazze, sui territori, per spiegare che cosa sta succedendo in questo Paese.